Se le ragazze della fila di destra mi fanno parlare io le ringrazio, poi casomai vi mando anche dei fiori, grazie. Io introduco solo brevemente, rapidamente perché poi lascio la parola al dirigente per l'incontro di stamattina, è il secondo incontro di cittadinanza e costituzione sul ciclo che ha a tema le emigrazioni, abbiamo visto le emigrazioni italiane, che sono emigrazioni che sono diversificate per regioni addirittura, per periodi e hanno connotazioni diverse. Noi avevamo dato un titolo a quello di stamattina, ma è un'indicazione di carattere generale perché noi volevamo fare due lezioni introduttive, due incontri introduttivi sui quadri generali dell'emigrazione italiana tra 8 e 900, perché partivano la società rurale italiana e le emigrazioni, quindi reti sociali familiari e strategie emigratorie, ma vedrete che poi la comunicazione di stamattina sarà molto più varia. Devo subito confessarvi che c'è stato un incidente di percorso perché il relatore mi aveva mandato ieri delle slide da farvi vedere, purtroppo non sono arrivato, non so per quale disguido. Ma non sono importanti, era solo una cosa di fondo, non è una. Dopo comunque le riprendiamo e ve le mandiamo. Due notizie, due informazioni sul nostro ospite di stamattina. è l'architetto Piero Biagioni, è stato per anni direttore di museo etnografico, ha lavorato in vari ambiti e è stato tra i fondatori, oggi è direttore, dell'archivio Paolo Cresci. è un archivio molto ampio, poi magari in conclusione se l'architetto ci darà due parole su questo, è l'archivio sulle emigrazioni italiane, sulle emigrazioni, sicuramente il più grande d'Italia e forse il più grande d'Europa. Quindi questo vi dà l'idea dell'immensa documentazione che c'è su questo fenomeno e poi molte volte nei nostri libri di storia ne troviamo solamente piccoli scenni. Io penso che questa sia un'occasione per approfondire una tematica storica, per conoscere tutte le implicazioni di cittadinanza, di integrazione che il fenomeno dell'emigrazione provoca. Il dottor Biagioni viene da Lucca, in particolare da una zona della Lucchesia, cioè che è la Garfagnana, che io vi invito davvero poi anche a visitare, è una delle zone più belle d'Italia secondo me e ha un passato storico eccezionale perché era divisa in tre grandi fasce, in tre grandi territori. Una parte era proprio della Repubblica di Lucca, poi c'era una zona che era medice a Fiorentina e una addirittura estense, governatore della Lucchesia estense, risiedeva a Castelnuovo Garfagnana ed era stato anche una vostra conoscenza, Ludovico Ariosto. Quindi la zona è ricca di tradizioni, il relatore secondo me è una persona estremamente competente e informata, ma non devo essere io a dirlo, lo vedrete anche da voi. Vi auguro buon ascolto, mi raccomando seguite con attenzione, cercate di prendere degli appunti perché tutto questo voi sapete che confluisce nel vostro dossier di cittadinanza e costituzione sarà spendibile per l'esame. Io vi ringrazio per l'attenzione, lascio la parola al preside e poi in conclusione vi dirò due cose su questi libri che sono qui. Grazie. Allora, buongiorno a tutti. Per quanto riguarda le classi che erano presenti alla prima riunione che abbiamo fatto la settimana scorsa, ricorderanno che introducendo l'incontro l'avevo inserito non tanto l'incontro singolo quanto piuttosto il ciclo di incontri sul tema delle migrazioni esattamente come quello relativo al Sud America all'interno del nostro curriculum di cittadinanza e costituzione. Ora, siccome noi abbiamo delle classi che ne erano presenti la volta scorsa e alle cui chiedo la stessa attenzione anche partecipata che si era stata nell'incontro precedente devo per forza, non l'avrei fatto altrimenti, richiamare due o tre elementi importanti. Uno, come è accaduto con l'incontro del 9 di marzo, anche questo incontro viene registrato per cui potrà essere poi rivisto con calma all'interno delle vostre classi. Infatti mi sono messo d'accordo col tecnico Mino Foresti, per quanto riguarda la registrazione non è ancora in linea l'incontro di sabato scorso ma tra poco ci saranno sia pochi giorni intendo, sia quello della sabato scorso che di oggi. Secondo, siccome in realtà soprattutto per le classi terza e quarte si è pensato di fare un progetto di incontri che non finisce ovviamente a maggio ma prosegue anche all'inizio dell'anno prossimo. Per queste classi sul volo terza e quarte sono state pensate, quelle almeno che si erano iscritti inizialmente, poi se qualcun altro è interessato lo potremo inviare anche alle altre classi. Abbiamo tratto da due volumi, le partenze e gli arrivi della Donzelli. Abbiamo desunto alcuni capitoli che sono stati inviati dal vicario al coordinatore delle classi e agli insegnanti di lettere che riguardavano alcuni aspetti che si possono approfondire nei lavori di classe e che sono focalizzati sulla microstoria piuttosto che sulla macrostoria, quindi riguarda l'immaginario anche delle migrazioni, quindi le lettere dei migranti, quindi la filmografia e i migranti, la musica e i migranti, in modo tale da ricostruire nel modo più possibilmente corretto quella che erano la mentalità e i problemi concreti che hanno accompagnato questa tematica. All'interno di questo ciclo di lezioni e di incontri è previsto, non c'è ancora la data esatta, tra fine settembre e inizio ottobre, sono previsti uno una tavola rotonda e l'altro una restituzione interna alla scuola dei lavori fatti dai singoli consigli di classe. Nella tavola rotonda inizialmente prevista nella locandina si voleva, analizzato la migrazione italiana tra 8 e 900, fare una riflessione sul tema delle migrazioni, delle motivazioni che spingono le persone a migrare, dei pregiudizi che accompagnano i migranti qualunque essi siano, da qualunque zona provengano, applicandola, realizzandola nella realtà contemporanea. Però siccome già alla volta l'incontro passato il relatore Barcella ha fatto notare che in realtà dopo una pausa mai totale ma sostanziale di emigrazione italiana, diciamo dagli anni 70 in poi del secolo scorso, ahimè la migrazione è ripartita ed è ripartita in forme nuove, giovani, spesso e volentieri ma non sempre laureati, che stanno emigrando in tutti i paesi non solo dell'Unione Europea ma anche internazionali. E sto proprio parlando con il professor Biagioni in attesa che voi arrivaste. Il professor Biagioni mi ha parlato di un filmato di una cinquantina di minuti che è stato messo a punto anche dall'archivio insieme alla fondazione che riguarda proprio questo tema specifico, cioè i giovani italiani che adesso negli anni 10 del XXI secolo emigrano. Perché emigrano? Pensano e sperano di tornare o meno? E allora si pensava di articolare meglio, infatti ho chiesto se poteva essere disponibile a tornare a settembre-ottobre, perché una volta che si è focalizzato la migrazione storica, diciamo dal 1870 al 1970 in tutte le sue fasi italiana all'estero, la parte finale degli incontri non riguardassero solamente bene, abbiamo visto le dinamiche che presiedono a una migrazione, riflettiamo sul mondo contemporaneo ma parliamo anche della nuova migrazione italiana. Giustamente il vicario vi ha detto, riprendendo un elemento che era emerso, che avevo anche introdotto la volta scorsa, che è curioso pensare che il tema delle migrazioni, ed è una cosa costante perché l'avevo percepito io stesso quando insegnavo con i miei allievi del bienio fine anni 90, inizio anni 2000, in cui in sostanza a domanda, ma voi cosa sapete delle migrazioni italiane che hanno coinvolto 24-25 milioni di persone nell'arco di un secolo? La risposta era nulla. Se mai c'era una percezione familiare di una migrazione specifica, che è la migrazione interna, dal sud al nord, dalla campagna nella città, ma poco o nulla era conosciuto della migrazione internazionale dell'Italia. E la cosa mi aveva colpito, perché in realtà, vi avevo detto ai presenti la volta passata, se c'è un tema identitario nazionale italiano è proprio il tema delle migrazioni, perché non coinvolge un enclave, una zona ristretta, non so, una regione ristretta, ma coinvolge aree diffusissime, molto ampie. Anche gruppi sociali diversi, anche se prevalentemente ovviamente nella società italiana fino agli anni 50 è una società contadina, rurale, di qui non ci si scappa. E invece esiste un silenzio, una marginalità all'interno, non tanto della lezione del singolo insegnante, ma proprio anche dei manuali più diffusi. E oltretutto, e anche questo potrebbe essere un elemento non previsto inizialmente, ma che si potrebbe approfondire, un pochino più complesso degli altri che ho citato, perché c'è questo silenzio da parte dei gruppi dirigenti? Ma non solo attuali, ma anche nell'8-900, infatti avevo detto, guardate, se voi andate a ripensare, soprattutto che in quinta, alla letteratura italiana, tra fino a 800 e 900, anche letteratura verghiana che pure sembra interessarsi dei vinti e quindi del mondo rurale, voi praticamente fate una fatica incredibile a trovare una qualunque riferimento al tema dell'immigrazione. Avevo citato dei amici sull'oceano, ma anche in questo caso, sì, è interessante che ci sia almeno questo reportage di questo viaggio verso il Sud America. Però si tratta di una tematica che coinvolgeva milioni di persone e che sostanzialmente è caduta nel silenzio. E oltretutto poi il relatore Barcella, per ragione di tempo, non ha potuto, se non un accendo velocissimo, far notare che è vero all'inizio, alla fine degli anni 10, inizio degli anni 20 del secolo scorso, sono cessate le migrazioni, per esempio, negli Stati Uniti e ha citato soprattutto gli interventi normativi statunitensi, frutto a loro volta di una chiusura verso gli emigranti che toglievano l'identità ai nativi. La cosa poi fra l'altro è curiosa perché hanno pari di nativi nordamericani, dovreste parlare di pelle rossa che negli anni 20 del XX secolo erano già estinti, per cui gli unici che potevano eventualmente chiudersi in difesa di una natività nordamericana erano i pelle rosse che proprio non c'erano più. Tutti gli altri che vivono negli Stati Uniti ancora all'inizio del secolo scorso sono immigrati dall'Europa sereni e tranquilli. Ovviamente poi il problema è sempre chi arriva prima e chi arriva dopo. Però in realtà il ruolo che ha avuto il fascismo dagli anni 20 agli anni 40 è significativo perché uno potrebbe avere il dubbio ma come mai la società italiana è rimasta negli anni 20-30 una società prevalentemente rurale e spariscono i migranti. Come questo sovradimensionamento delle risorse umane che non riescono a trovare lavoro in Italia è sparito in quei 20 anni o ha preso altri canali? È fatto l'accenno alla politica imperialistica e espansionistica italiana soprattutto nel Cordon Africa, l'attuale Etiopia, che in pratica trasforma i migranti in coloni. Ma ovviamente le problematiche sono le stesse. Certo che se tu vuoi elaborare un'identità nazionale di grande potenza che riprende la potenza imperiale romana non puoi permettere che i tuoi cittadini italiani facciano i lavapiatti a New York. Quindi blocchi sostanzialmente anche la migrazione. Ma la cosa che per me è molto importante è una delle osservazioni che ha fatto Barcella in conclusione della sua relazione. E cioè non esiste nessun fenomeno migratorio che non produca tensioni. Perché il processo migratorio è un processo che nasce sempre da squilibri. Possono essere squilibri economici, possono essere squilibri demografici. Hai un surplus di popolazione che non trova lavoro in una zona e hai un surplus di potenzialità economica nel Novecento industrializzazione e non hai abbastanza mano d'opera. Quindi evidentemente esiste uno squilibrio alla base di ogni fenomeno migratorio. Ovviamente questo squilibrio è aumentato poi anche da quelle che sono i valori culturali di chi parte e di chi riceve la migrazione che spesso e volentieri non sono gli stessi. E poi dialogare fra diversi non è la cosa più semplice del mondo. Voi avete presente ad esempio anche la prima, forse vi sfugge, il primo elemento di capacità di dialogo fra diversi e fra maschi e femmine. E se voi osservate, se voi osservate anche il tema del femminicidio che torna spesso e volentieri, già la difficoltà immaginate al dialogo tra il genere maschile e il genere femminile è un primo passaggio biografico personale del rapporto fra il diverso che entra nel mio mondo. Immaginate un diverso che diventa un diverso culturale, religioso, eccetera. Però spesso e volentieri non si cita che un elemento di squilibrio, di difficoltà non c'era solo il paese che riceve i popoli che, gli immigrati, ma il paese che li perde. Perché perdere milioni di giovani in una certa realtà in un certo periodo storico, in genere quelli che sono più dinamici, perché sostanzialmente non si accontentano di sopravvivere, ma vogliono un destino diverso e quindi sono anche tra virgolette più coraggiosi, perché a mio avviso, a mio avviso, a 12 anni, prendere la nave e andare a New York, spesso e volentieri senza accompagnatori, in ogni caso con padre e madre basta, non conoscendo un tubo di niente. New York e la faccia nascosta dalla luna per un contadino lucano è la stessa cosa, per cui vai verso l'ignoto e vai a 12 anni, vai a 10 anni, 13 anni, vuol dire che c'è del coraggio. Quindi la regione, la nazione che perde queste risorse, perde risorse umane serie e quindi un elemento di impoverimento per chi? Per le zone di partenza, non per le zone solo di arrivo. E allora a questo punto si pone, vi ricordate che avevo detto, che tutti i temi che noi cerchiamo di affrontare sono temi per conoscerli, ma anche per, diciamo così, avere una chiave di lettura anche del presente. E perché in questo senso? Perché il fenomeno della mondializzazione, della globalizzazione economica di persone, merci, culture, c'è e non si può cancellare nel ventunesimo secolo. Sarà il tema quantomeno della prima metà del ventunesimo secolo. Allora tu hai due, tu come cittadino, come giovane, come adulto, hai solo due strade. Fai lo struzzo, per cui dici che non c'è questa mondializzazione e pensi e ti illudi, ahimè, di poterti chiudere a casa tua, nella tua casa, chiudendo le porte, chi era presente ha sentito quanti clandestini italiani hanno continuato ad arrivare negli Stati Uniti via Messico anche quando le norme rendevano impossibili le immigrazioni. Non li fermi gli emigranti. Non li fermi per la semplice ragione che l'alternativa è morire di fame. Allora voi immaginate, o per la guerra, voi immaginate che vi si dice guarda che a rigore di norma tu non puoi arrivare e tu a casa tua però sai che morirai. Sai dove lo metti tu la questione che dicono che dal punto di vista normativo tu devi cercare di salvaguardare te, la tua famiglia, la tua discendenza. Qui non ti fermi. Allora hai solo un'altra possibilità. L'altra possibilità è fermo restando che esiste un fenomeno che è secolare come altri fenomeni, le guerre di religione nel 5-600 in Europa. Quel fenomeno lo devo conoscere e devo tentare pur nella consapevolezza della complessità di trasformarlo in una ricchezza cercando di gestirlo. Ma come faccio a gestire un fenomeno se non ne conosco gli elementi caratterizzanti? Sarebbe come gestire dei fenomeni fisici, chimici senza conoscere gli elementi che entrano in gioco. Non è possibile. E allora a mio avviso un sistema scolastico italiano ha dei ragazzi che dovranno vivere nel XXI secolo. Ha il dovere e non il diritto di presentare la complessità del mondo con cui avranno rapporti non per spaventarli ma per dare delle chiavi di lettura. E infatti la prima relazione voleva essere una periodizzazione ed una idea della complessità del fenomeno. Questa seconda di base è la domanda perché partivano nel mondo rurale. La terza è come erano ricevuti i nostri migranti, quando si parla appunto brutta gente, gli italiani, dal punto di vista del pregiudizio. E poi l'idea, ma poi il professore caro vi illustrerà quei testi che sono veramente interessanti alcuni per gli studenti e altri per i docenti, come riusciamo a trarre da questa conoscenza del nostro passato proprio identitario nazionale degli elementi di comprensione della realtà che tutti noi dobbiamo affrontare. Questa è grossomodo la logica che presiede quantomeno a questo ciclo di incontri relativi alle migrazioni. Ecco, spero di essere stato chiaro e do la parola al relatore a cui ho già avuto via troppo tempo. Grazie. Io devo ringraziarvi per questa opportunità che mi avete dato. e dopo le parole estremamente interessanti e di un'attualità incredibile, dette dal vostro presidente, capovolgo il mio intervento, o meglio, una riflessione finale che ho messo in fondo a tutte queste pagine, che però non vi leggerò, quindi cercherò di essere meno noioso possibile. La faccio all'inizio perché mi sembra che sia proprio, possa essere la conclusione della riflessione fatta dal vostro presidente. Io circa due mesi fa noi a Luca abbiamo fatto un convegno in cui è intervenuto Pietro Pietrini, che è un grosso studioso di neuroscienza. Lui è un medico, però affronta i temi del cervello. Noi a Luca in questi giorni abbiamo la settimana mondiale del cervello, ma non inteso come elemento materico, ma quelle che sono le realtà, le potenzialità, le interconnessioni, le dinamiche, i meccanismi del cervello. Durante un convegno in cui si parlava appunto di migrazione, insieme a Pietrini venne fuori questa immagine che io vi racconto ora. La migrazione, le migrazioni sono come la pioggia, non si para. Quando viene, quando scende, è inutile avere l'ombrello. Viene, viene giù, ci bagna. Il problema è capire il significato di questa pioggia, cioè la possibilità nostra dell'uomo, di riceverla. La pioggia è l'elemento vitale, perché l'acqua è quello che rende possibile che i semi germoglino, che la natura cresca, però è anche un elemento di devastazione, perché la pioggia è quella che porta alluvione, porta dissesso idrogeologico. Per cui è importante, rispetto a un fenomeno come quello della pioggia non governabile, che ci sia un terreno su cui questa pioggia arriva, che sia un terreno idoneo per riceverla. Perché se la pioggia trova un humus fertile da un punto di vista dell'organizzazione del territorio, della canalizzazione, eccetera, è un elemento di vita. Se invece trova una realtà disastrata, è un elemento di morte. Il paragone è semplice. Le migrazioni non si fermano. Diceva prima giustamente il professore, che cosa perde quel padre che ha come alternativa la morte dei propri figli? Rischia il tutto per tutto. Cosa perderebbe? Niente. importante è che la società, il contesto in cui questo flusso di persone, questo flusso di acqua arriva, sia un humus preparato che sappia cogliere e sappia governare anche questi processi che sono necessariamente dei processi conflittuali. Racconteremo dopo di come ci trattavano noi italiani quando andavamo negli Stati Uniti. Noi come Fondazione Cresci abbiamo una raccolta incredibile di vignette, vignette umoristiche, tratte dai giornali dall'Ottocento fino agli anni Cinquanta. Sono vignette che sono comparse su giornali tipo Il Punch di Londra, ma un po' di tutta Italia, di una cattiveria e di una ferocia nei confronti degli italiani che sono incredibili. Tutti i fatti di intolleranza, gli eccidi, i linciaggi, perché noi siamo stati linciati, mi riferisco a Tallulah in Alabama, a Egg Mort in Francia, siamo stati linciati nei confronti di persone che non avevano niente da perdere e sono andati a cercare all'estero una vita migliore, con tutta la conflittualità, con tutti i problemi che questo ha posto, perché non è che ci dobbiamo nascondere che noi siamo stati degli stinchi di santo. Io vi ricordo che noi parliamo tanto della strage dell'11 settembre di Bin Laden, ma io vi ricordo che 70 anni, 80 anni prima, nella via accanto che è Fleet Street, una bomba c'è la missione italiano, un anarchico agguerrito, inferocito contro una società, che veniva da una realtà rurale, semplice, ma inferocito contro una società come quella americana, estremamente meritocratica, estremamente selettiva, esclusiva, emette una bomba e provoca un sacco di morti, quindi non eravamo degli stinchi di santo, è inutile nascondercelo. Però appunto la conflittualità nasce dal fatto che, diceva bene il vostro preside, si litiga fra marito e moglie, figuriamoci se sono due persone che si sono scelte, figuriamoci se non è difficile convivere con persone che non conosciamo, che hanno usi, abitudini diverse, lingua, religione, culture, e quindi è indubbiamente una sfida, è la sfida del futuro, una sfida che inevitabilmente ci viene incontro. E quindi, come la pioggia, dobbiamo avere la capacità di gestirla, dobbiamo avere la capacità di dare un senso, da un punto di vista di società civile, a questo rapporto, cercando di arricchirsi dalle varie culture e non cercando di creare steccati che tanto non si parano. E quindi con queste riflessioni che io volevo fare, diciamo, alla fine, vi faccio alcune brevi riflessioni e considerazioni su quello che è stato un po' questo fenomeno della mobilità. Una mobilità che, nel caso della società italiana, nasce prima che nascesse l'Italia. Cioè, giravano i lucchesi, i lombardi, i veneti, i borboni, prima ancora, prima che si parlasse d'Italia. Tant'è vero che noi abbiamo all'estero delle, diciamo, delle specie di congregazioni o delle specie di, addirittura in certi casi le chiamano proprio nazio, no? Nazioni. Lucca, per esempio, ha le nazio lucensis, cioè le specie, diremo ora, delegazioni di uno Stato nei vari Stati d'Europa dove questa gente andava e si muoveva per motivi economici e per motivi di lavoro. Quindi, praticamente, prima che nascesse l'Italia, gli italiani si muovevano e quindi il fenomeno dell'immigrazione era un fenomeno estremamente diffuso ed estremamente... è chiaro che noi siamo abituati a pensare anche nel Medioevo e mi veniva in mente, guardando questi giorni, il nome della rossa, come ci dà un'idea di una società estremamente cristallizzata o ferma intorno a un monastero in cui si muovevano soltanto i monaci ma la gente era completamente bloccata. Sì, questo era vero, ma fino a un certo punto, era vero magari per quanto riguarda i servi della gleba o era vero per quanto riguarda i braccianti, c'è gente che era estremamente legata al fondo agricolo su cui doveva lavorare, ma non era altrettanto vero per quanto riguarda il discorso, per esempio, dell'artigiano. E questo è importante, importante perché anche in questo caso ci si rende conto che per muoversi, per migrare, per conoscere il mondo, per proporsi al mondo, c'è bisogno di una cultura e di una professionalità. Questo guardate che è l'elemento discriminatorio dell'emigrazione e lo vedremo anche storicamente di come paradossalmente, e sembra strano, si muovono prima quelli più bravi e più dotati che quelli più poveri ma più disperati. E questo è anche una lezione, cioè serve a dire guardate che l'emigrazione che noi abbiamo o nell'immaginario collettivo abbiamo visto finora, cioè il porto, questi disperati, le mamme con i bambini, i fagotti, le lacrime, eccetera. Sì, l'emigrazione che viene chiamata come migrazione stracciona, sì, c'è stata, ma guardate che l'emigrazione, e ritorno al discorso del vostro Presidente, è anche un'azione di grande coraggio, di imprenditoria, si scommette su se stessi e si cerca di valorizzare al meglio e nei luoghi più opportuni quelli che sono le proprie professionalità, le proprie individualità, con dei risultati e questo basta guardarsi intorno e vedere quanto per esempio italo-americani sono arrivati a livelli importanti e quindi avere in questa maniera l'opportunità di esprimere se stessi al meglio. E quindi è chiaro che già dal Medioevo, come si dice, c'è tutta una mobilità, una mobilità che è prima a corto raggio, la transumanza nelle valli, dalla valle al piano, ma anche a dinamiche più grandi. Io, come diceva prima il Professor Carola, io vengo da una zona, la provincia di Lucca, dove abbiamo le Alpi Apuane, Alpi Apuane che oltre al marmo hanno delle vene di ferro. Se voi andate sull'elenco del telefono della mia zona, voi troverete un sacco di cognomi che si chiamano Bresciani o Bergamini. Perché? Molto semplice. Nel 300, dalla Valtrompia, da queste zone della provincia di Brescia, sono partiti moltissimi che erano capaci di lavorare il ferro e quindi di mettere insieme un'attività, diremmo, imprenditoriale, per quell'epoca industriale, della fusione. E sono loro che portano da noi l'alto forno. Perché noi fino a quell'epoca, siamo nel 300, fondevamo non dell'acciaio, ma della semplice ghisa, cioè riuscivamo a malapena a fare un prodotto che diremmo ora un semilavorato. E quindi invece l'introduzione dell'alto forno, che non a caso nei documenti del 300 si chiamano forni alla Bresciana, e questo è significativo, ci consentì di fare quel passo avanti, di lavorare la ghisa, farla diventare acciaio e quindi dall'acciaio farla diventare utensili, farla diventare armi, farla diventare attrezzi per l'agricoltura e compagnia bella. E questi cognomi che noi troviamo nel telefono sono gli eredi di queste persone che 700-800 anni fa vennero in Garfagnano. E questo per spiegare che appunto è una società che già nell'antichità è una società in cui il movimento, la dinamica, eccetera, è importante. E lo spostare competenze e saperi da una parte all'altra della penisola non crea altro che arricchimento. Poi vabbè, per non farla lunga da un punto di vista storico, arriviamo diciamo alle guerre napoleoniche, quando cambia il mondo delle dinamiche sociali del movimento, dietro alle truppe di un esercito si muove un'articolata pletora di personaggi, di artigiani, di commercianti, diciamo una specie di armata brancaleone ma allo stesso tempo efficiente che dissemina su tutta l'Europa una serie di interconnessioni, di conoscenze, di saperi, eccetera, che poi diventano stabili. Nasce in questo periodo proprio, si diffonde il meccanismo dei mestieri girovachi e ognuno porta a giro il proprio sapere, per cui per esempio dalle valli lombarde si diffonde l'artigianato degli strumenti di precisione, barometri, queste cose qui, oppure la seta, pensate gli addetti alla lavorazione della seta o ancora da altre valli, per esempio del Bresciano o del Piemontese, muratori, scalpellini che portano all'estero e portano in tutta Italia e poi successivamente all'estero le loro capacità. Per esempio ogni zona produce delle particolari attitudini professionali e le esporta. Vi racconto quella della mia zona, per esempio quella dei figurinai, che cosa sono i figurinai? È un artigianato poverissimo perché sono dei piccoli scultori che in realtà poi non scolpiscono perché si fanno fare un modello da uno scultore e poi ci fanno uno stampo e dopo, levato la matrice interna, versano dentro questo stampo il gesso. E quindi vengono fuori delle statuine, vuoi a carattere religioso, quindi la Madonna, San Giuseppe, oppure i presepi per esempio, oppure anche su pellettili domestici, quindi la riproduzione di una scultura antica, il canino, il gattino di gesso che viene diffuso. Ecco, questi sono degli artigiani che partono con la loro competenza, ma con uno zaino che contiene di fatto soltanto gli stampi e pochi attrezzi, vanno di città in città, comprano lì il gesso e producono queste statuine che li vendono. E quindi nasce tutta un'imprenditorialità. Cioè questa gente già dal Settecento noi sappiamo che li troviamo a San Pietroburgo, ma quanti conoscevano dove era San Pietroburgo? Li abbiamo trovati nella seconda metà dell'Ottocento in Nuova Zelanda, ma io vorrei dire qual era la carta geografica del 1850 che riportava la Nuova Zelanda, come c'erano finiti? Però di passo in passo questo meccanismo va avanti, ma ce n'è mille di questi mestieri, mi viene in mente che ne so, voi conoscete il premio Bancarella, il premio letterario? Nasce dal fatto che a Pontremoli, questa cittadina della provincia di Massacarrara, c'era questa tradizione non tanto di stampare libri, ma di ambulanti che vendevano i libri. E quindi vanno a giro per l'Europa con il loro canestro e invece che le statuine di gesso vendono i libri. E da lì nasce poi l'industria editoriale, eccetera, perché poi questi meccanismi generano a loro volta altre accadute, altre opportunità economiche, cioè i figurinari di cui abbiamo detto prima non si fermano lì. Per esempio negli anni 30 in America hanno una grande intuizione. Anni 30, Hollywood, i Colossal, le scenografie, c'è da fare, avete in mente Ben Hur, voi forse non lo ricordate, ma c'è da fare queste colonne che rappresentano queste scenografie di questi tempi romani, eccetera, i figurinari mettono a disposizione la loro competenza e li fanno, ma li fanno con gli stampi e le realizzano in serie, se non addirittura diventano scultori oppure lavorano nell'ambito del decoro architettonico del gusto anglosassone. Per esempio quando voi vedete nei film questi camminetti con queste guglie, con questi riccioli di stile Tudor, con molti sono stati fatti da questa gente. Quindi vedete queste professionalità poi generano a loro volta altre professionalità. Ma è chiaro che sono fenomeni terribili questi, perché a fianco di queste compagnie itineranti, e non voglio raccontare di quelli più tristi, gli spazzacamini che vengono per esempio tutti da una zona, tutti, in gran parte da una zona a cavallo fra la Liguria e l'Emilia, dove venivano impiegati tantissimi bambini. Perché venivano impiegati i bambini? Perché erano piccoli e riuscivano a infilarsi nella canna dei camini. E quindi situazioni di sfruttamento incredibile. Io ho letto e ho nel nostro archivio dei contratti che fanno accapponare la pelle, cioè di famiglie che in qualche maniera potremmo dire vendono il proprio figlio a questo capocompagnia, nel caso specifico di figurinari, i quali per due anni danno questo bambino, e stiamo parlando di bambini di 12 anni, 13 anni, che diventa diremmo il boccia, diremmo l'apprendista di questo capocompagnia, spesso volte un autentico sfruttatore, e vanno in giro per i paesi d'Europa per due anni, un anno e mezzo, due anni, e quindi questi hanno diritto soltanto al vitto. E questo qual è il meccanismo? Perché io faccio così? Perché poi una volta tornato a casa, questo bambino ha acquisito una professionalità e quindi a sua volta farà il capocompagnia, arruolerà altri bambini e andrà a vendere per le strade d'Europa le stesse statuine di gesso. Ma le cronache consolari dell'epoca ci dicono come questi bambini venivano utilizzati non tanto per professionalizzarsi, ma per muovere a compassione la gente, perché gli veniva messo in braccio una cesta con queste statuine di gesso, è chiaro, andare in una via elegante di Londra con questa cesta, un bambino stracciato, emaciato, dall'espressione chiaramente affamata, diciamo, convinceva di più a comprare la statuina. Quindi dietro a questi meccanismi ci sono dei sistemi di sfruttamento che fanno veramente paura. Però poi che cosa succede? Che con l'Unità d'Italia cambiano le cose, cambiano le cose anche perché avviene un fatto importante, un notevole incremento demografico, cioè, anzi, due sono infatti importanti. L'incremento demografico, di fatto, la gente moriva di meno, detto in parole semplici. E dall'altra parte il discorso, soprattutto in certe zone d'Italia, l'introduzione di tecniche agrari che in qualche maniera incrementavano la produzione, ma allo stesso tempo espellevano dal ciclo lavorativo delle figure. Per cui nasce una nuova immigrazione che non è soltanto l'immigrazione, come abbiamo detto prima, professionale, ma è un'immigrazione a questo punto di braccianti, è un'immigrazione di poveri. E' strano che questo fenomeno interessi anche delle zone, e ripeto, come la Lombardia, che nel trentennio, fra il 1870 e la fine dell'Ottocento, manda all'estero 500.000 persone, che è un numero incredibile. Cioè, e la Lombardia, che uno penserebbe, perché anche lì vedete i luoghi comuni come sono, emigrazione, sud, no? Si dice Calabria, Sicilia, eccetera. Eh, sì, forse dopo, ma qui la Lombardia è la quarta regione dopo Veneto, Friuli e Piemonte. E solo le altre regioni arrivano, e arrivano molto dopo. Cioè, arrivano contemporaneamente, ma è un fenomeno molto, molto forte. 500.000 persone, quindi si sta parlando di un fenomeno di grande importanza. Però che cosa succede? Succede che a un certo punto si rompe l'argine. Quindi abbiamo detto, prima sono partiti quelli qualificati, poi partono i contadini. I contadini, è strano, anche lì è un meccanismo strano. Inizialmente i contadini partono stagionalmente, no? Dalla Toscana si va in Corsica, a fare che? A dissodare dei terreni, a fare carbone, eccetera. Ma si va in Corsica in un periodo dell'anno particolare. Cioè, si va, quando in Toscana è finita la stagione, quindi il periodo delle lavorazioni agricole, verso ottobre-novembre, si va fino a febbraio-marzo in Corsica a fare questa attività. Ma addirittura queste dinamiche diventano di più vasto raggio. Cioè, dall'Italia partono i famosi golondrini. Chi sono i golondrini? Golondrini è una parola spagnola che significa rondine. Sono degli emigranti che partono per l'Argentina, stanno sei mesi in Italia e poi, come le rondini, ritornano. E cosa vanno a fare in Argentina? Vanno a fare i lavori più umili, lavori agricoli, dissodare terreni. Si occupano, sfruttando l'alternanza delle stagioni, quindi loro vanno in Argentina quando è estate, quindi possono svolgere tutta una serie di attività agricole che non riescono e non potrebbero svolgere in patria al momento in cui c'è la stagione estiva. E' chiaro che questo tipo di meccanismo, l'immigrazione stagionale, è l'inizio dell'immigrazione definitiva. Perché? Perché ovviamente si incominciano a creare canali, rapporti, situazioni, opportunità, per cui, diciamo, è la testa di ponte, la testa avanzata di un percorso che poi durerà molto più a lungo. E' chiaro che ci chiedevamo, ma da dove vivono? Da dove vengono? E come vivono? E perché partono? E io vi vorrei leggere alcune parole, diciamo, non inventate da me, ma dei documenti ufficiali o da lettera. Relazione finale dell'inchiesta parlamentare di Stefano Iaccini. Siamo nel 1880. Nelle valli delle Alpi e degli Appennini, ed anche nelle pianure, specialmente dall'Italia meridionale, e perfino in alcune province fra le meglio coltivate dell'Alta Italia, attenzione, sorgono tuguri, dove in un'unica camera affumicate, priva di aria e di luce, che vivono insieme, uomini, capri, maiali e pollani. E tali catapecchie si contano, forse, a centinaia di migliaia. Altra relazione ufficiale. Gli individui di una famiglia di contadini sono valutati in ragione dell'utile che apportano. La morte di quelli che sono impotenti o poco adatti al lavoro o giacciono a letto da qualche tempo è un fatto che non ha minore importanza e cagiona molto o meno volte minor dolore della morte, non dirò, di un grosso animale bovino, ma anche di una semplice pecora. Cioè, il fatto che all'interno della famiglia o un disabile, o una persona che era malata, incapace di svolgere un'attività lavorativa, morisse, provocava meno dolore, non se moriva una vacca, ma anche se moriva una pecora. I commenti, diciamo, li lascio a voi. E quindi è chiaro che si apre questo nuovo mondo, cioè si intravedono all'estero possibilità di lavoro e si creano però, diciamo, anche dei sogni, delle aspettative che molte volte non sono quelle che uno pensa di trovare. E pensate come in questo periodo, siamo diciamo dagli anni Ottanta, dell'Ottocento, ci sono delle vere e proprie campagne di arruolamento. Nazioni come l'Argentina e il Brasile hanno bisogno di mano d'opera. Ma chiediamoci perché. Per esempio, in Brasile, Massimiliano III, imperatore del Brasile, liberalizza la schiavitù. Hanno finito l'ora, i vostri compagni rientrano. Poi approfondisco la cosa, ma è evidente che quando si partecipa qui si sta presente a tutta la relazione. Non stop and go. Adesso poi approfondirò che cosa è successo. Per quello che dico, mi raccomando, si viene qua quando si è motivati a seguire un certo sviluppo, non solo per riempire un'ora. Niente. Allora, dicevo, Massimiliano III nel 1888 abolisce la schiavitù. Per cui, che cosa succede? Succede che molti di questi schiavi abbandonano le fazendas. E quindi l'economia si trova in forte crisi. Quindi c'è bisogno di mano d'opera. Allora parte una campagna di reclutamento. Addirittura si paga il biglietto, si favoriscono gli espatri, eccetera. Ci sono degli agenti di viaggio, dei procacciatori, gente normalmente senza scrupoli, che per quattro soldi vende l'America, cioè fra virgolette, ovvero sia vende a dei giovani ignoranti che non sanno più di tanto di cosa succede in questi stadi, delle situazioni mirabolanti. Addirittura alcuni governi stampano proprio delle guide per le migranti, cioè che sono dei vademecum in cui si spiega, diciamo, venite, vi si paga il biglietto, poi ogni famiglia avrà diritto a X ettari di terreno, poi nei primi anni vi daremo le sementa, poi vi si darà gli attrezzi agricoli, eccetera, creando tutta una serie di illusioni. E questo, ripeto, vale soprattutto per due paesi, l'Argentina e il Brasile. E questi emigranti abboccano e decidono di partire. Non gli viene spiegato che la fazenda è nel mezzo alla pampa, a centinaia di chilometri dalla prima città, di come, sì, è vero, loro guadagneranno, ma il negozio dove possono comprare genere alimentare è uno e uno solo, magari gestito dal proprietario dei fondi vicini per cui i prezzi sono i suoi, cioè quindi creando una situazione di disagio e di problematiche incredibili. E non a caso vi leggo la lettera di un signore che si chiama Camillo Abrami, che parte all'inizio del secolo e che dopo 85 anni lui scrive una specie di memoria in cui ricapitola le vicende della sua vita e racconta tutte le sue esperienze. Tra l'altro un personaggio che io ho conosciuto, vecchissimo, simpaticissimo, strano quanto vi pare, con una vita avventurosa, vi dico una cattiveria, ma lui a un certo punto in Brasile torna a casa un giorno e trova la moglie insieme a un altro. Si arrabbia moltissimo, prende una pistola, gli spara cinque colpi, ma lo manca. Spara cinque colpi all'amante della moglie, però non riesce a beccarlo. Allora diceva, vuol dire che era destino, perdona la moglie e fine le trasmissioni. Questo è un inciso perché appunto me l'ha raccontata lui, dico la verità. Allora, all'età di 85 anni mi domanda, mi domandai, spiegazioni con due zeta, perché andiedi in America? Ricordo che aveva appena compiuto gli anni 16. Andando commerciando nei paesi del comune dove lui viveva, sognava un futuro migliore, anche per fare strada ai fratelli, poiché eravamo una famiglia numerosa. Sette fratelli, due sorelle, babbo e mamma, undici bocche da sfamare. In quell'epoca si udiva parlare dell'albero che fruttava le sterline d'oro e chi si alzava presto le dava una bella scossa e riempiva le tasche. E poi ritornava, ricco. Babbo approva la mia partenza, però mi disse, ricordati, e questa è bellissima come frase, ricordati che il pane d'altri è, come te l'ho detto altre volte e ti ripeto, a sette croste. Il messaggio è chiarissimo. Abbiamo detto poi appunto come in questa dinamica di movimento e di migrazione prima partono gli uomini, abbiamo visto l'emigrazione stagionale, diventa poi stanziale e c'è poi il fenomeno delle donne. Cioè intanto c'è da ricordare come le dinamiche della partenza non sono delle dinamiche semplicissime. Abbiamo parlato dei reclutatori, ma voi pensate dover decidere all'interno della famiglia chi partiva, chi dei sette fratelli di Angelo Abrami doveva partire, lui o un altro. E quindi diventava una specie di consiglio di famiglia, anche perché non è che uno partiva e il problema era risolto, cioè la partenza investiva le risorse familiari. Chi pagava il biglietto? Chi è che dava tutti quegli elementi di supporto per poter affrontare questa avventura? Avventura terribile. Terribile perché, come si diceva prima, si andava veramente verso l'ignoto. C'è una lettera molto bella che abbiamo nel nostro archivio di un signore che non aveva mai visto il mare, che era una cosa frequentissima, soprattutto nelle valli interne, come penso anche qui, delle valle della Lombardia, che si spaventa, monta sulla nave e poi quando arriva e vede questa enormità di quella vastità dell'oceano e quando arriva a destinazione scrive a casa e vuole manifestare lo stupore di questo evento e lo vuole comunicare ai suoi amici, che come lui non avevano ancora visto il mare, quindi lui non riesce a comunicargli, dice questa frase. Intanto invece che l'oceano, si sbaglia, lo chiama L-oceano, per cui viene fuori una specie di lociano, per cui non si capisce se è il nome. E quindi lo chiama il grande luciano, invece che vuole avere il grande oceano, è così grande che non c'è neppure una ginestra da attaccarsi. Cioè nel senso, se tu scivoli e cadi nel canale vicino caso, nel fiume vicino casa, c'è qualche cosa a cui tu ti puoi attaccare, quindi ti puoi in qualche maniera, con cui ti puoi salvare, non c'è neppure una ginestra a cui attaccarsi. Questo per dirvi di come gli orizzonti anche culturali di questa gente che partivano erano veramente degli orizzonti rurali, i paragoni non vengono fatti con, vengono fatti con quella che è la loro vita di tutti i giorni, con le loro aspettative e le loro paure. E quindi i paragoni sono, diciamo, delle volte anche ingenui, perché pensare di trovare le ginestre, o trovare un albero in mezzo all'oceano, a cui attaccare per salvarsi, è una cosa che fa in qualche maniera un po' sorridere, però in realtà, diciamo, è così. E quindi abbiamo detto prima partono gli uomini, poi c'è il fenomeno delle donne. E' chiaro che la partenza degli uomini soli è vista male da certi governi. Perché? Perché gli uomini soli tendono a fare aggregarsi, no? E' tipico, no? Si va in un'azione dove non si conosce nessuno, se c'è un connazionale, si fa lega e ci si trova insieme. E guardate che questo è un fatto importante, perché per certi aspetti l'unità d'Italia viene fatta più così che non in Italia. Perché in Italia, nel 1880, 1890, se il Valtellinese aveva poco da dire, il Valtellinese con il Lucano o il Chiantigiano o con il Romagnolo. E quindi praticamente c'era una specie di indifferenza, cioè praticamente ognuno poi faceva la propria vita. All'estero si forma il senso dell'identità italiana, perché comunque, comunque, parliamo la stessa lingua, anche se delle volte non è semplice capirci, perché il sardo con il siciliano, col friulano, però c'è un senso di identità. Ci sono tanti elementi di identità. La religione, e quindi nascono le chiese cattoliche, eccetera, eccetera. Si riproducono a livello identitario certe feste. Dove pensate, io ho una foto bellissima, in archivio, di una famiglia di un paesino della Garfagnana che si chiama Chiozza, dove c'è il santo padrono a San Bartolomeo, che si festeggia il 24 di agosto. Da questo paese tantissimi sono andati in un paesino, paesino per modo di dire, perché in Brasile il paesino è solo 100.000 abitanti, e si è formata una comunità di questo paese. Ebbene, in questo paese del Brasile, il 24 di agosto è diventata festa, perché questa comunità di questi chiozzini fanno la processione, gli standardi con il prete, poi si mangia cibo italiano, eccetera. Quindi questo elemento identitario italiano è riuscito a imporsi sulla comunità locale, che probabilmente non aveva un patrono, non aveva nessuno, fino a diventare una specie di patrono di fatto di questa comunità. Così come, per esempio, il discorso identitario tipico del cibo e della cucina. Cioè, i sapori, il gusto, sono dei momenti importanti di questa memoria. Si ricorda... Io, guardate, con questa esperienza che ho fatto, ho veramente girato il mondo in lungo e in largo incontrando queste comunità di italiani, di lucchesi, eccetera, eccetera, in tutto il mondo. E vi dico che i piatti più tradizionali che io ricordo di aver mangiato da bambino quando la mia nonna me li faceva, che ne so, il coniglio con le olive, la polenta con... Insomma, non vi sto a raccontare cose. Io non le ho trovate più in Italia, ma le ho trovate in queste comunità dove questo elemento era proprio il segno identitario. E con degli stravolgimenti incredibili. Per cui, in Australia, voi sapete che il Capodanno è uno dei giorni più caldi, soprattutto in certe parti dell'Australia. E ho trovato gente che comunque, per Capodanno, bisognava mangiare lo zampone con le lenticchie, i tortelli in brodo, e compagnia bella, perché era tradizione. Voi pensate che questi giovani australiani che magari venivano dalla piscina, tutti palestrati, eccetera, però la nonna gli obbligava a mangiare queste cose che normalmente avrebbero ammazzato il fegato di ciascuno anche per Natale, figuriamoci se per Ferragosto. Quindi, dicevamo, gli uomini tendono ad aggregarsi fra di loro. I governi vedono un po' di malocchio questa situazione, perché una volta che sono aggregati è più facile la rivendicazione dei diritti, è più facile la sindacalizzazione, cioè, nascono tutta una serie di realtà che possono creare dei problemi, per cui si dà l'ok per i rimpatri, cioè per i ricongiungimenti, ovvero sia l'uomo italiano, se c'ha la moglie accanto, c'è una cosa, un'espressione più bellina che ho trovato in un rapporto, gli uomini diventano remissivi e timorosi. E quindi si cerca in qualche maniera di creare questi ricongiungimenti. Ma, quindi, abbiamo deciso di emigrare, abbiamo fatto il passaporto, abbiamo fatto una scelta importante, quindi la famiglia ha contribuito, magari vendendo un pezzo di terra, magari indebitandosi, e si decide di partire, si fa il biglietto e si parte, e ecco che si apre la storia infinita del viaggio. sentì il fragore del treno, né muli né cavalli a trascinarlo, cioè già, pensate che uno veniva da un posto dove il treno non esisteva, per cui l'idea che ci fosse qualche cosa che si muovesse da sé, senza essere trascinato, o da muli o da cavalli, già era una cosa che in qualche maniera quindi la stretta di mio padre che mi incitava a salire in carrozza, l'ultimo bacio di mia madre, il resto sparì fra la nebbia delle mie lacrime, stavamo andando verso l'ignoto. Un'altra, una lettera di un emigranto che parte per l'America, e siccome la nostra marineria, cioè le nostre navi transatlantiche erano delle navi, cioè ancora non è avvenuta una grande, cioè gli italiani non avevano ancora capito, le compagnie di navigazione italiane non avevano ancora capito il business dell'immigrazione, molti di questi partivano dai porti del nord della Francia, tipo le Havre, o addirittura dell'Inghilterra, Liverpool, che per tradizione erano sempre stati luoghi da cui partivano gli emigranti. Vi ricordo il grande esodo degli emigranti irlandesi in America. E quindi ecco da cui il porto di Liverpool. Quindi si parte dall'Italia per andare alle Havre. Da Basilea ad Havre ci si fece viaggiare in treni orribili, pigiati come le acciughe, e ci fecero sfilare in processione da un luogo all'altro in mezzo ad un migliaio di emigranti di tutte le razze e di tutti i colori, cacciati con la frusta come tanti maiali. E' chiaro che in questa dimensione si perdeva il senso dell'identità, questa gente si sentiva veramente carne da macello, già il dolore di aver lasciato la propria famiglia, la propria nazione, la propria cultura, le apprezzioni per il futuro e per l'ignoto. Pensate quanti di questi durante questi terribili viaggi hanno potuto dire se non fossi partito, se potessi tornare a casa. E perché poi c'era il discorso del viaggio per nave, che era un viaggio normalmente terribile. se noi facciamo l'elenco delle tragedie di naufragi che dalla seconda metà dell'Ottocento fino agli anni Dieci del Novecento costellano la storia delle emigrazioni, ci renderemo conto di come fu un vero massacro. E ci renderemo conto di come molti di queste compagnie e purtroppo va detto soprattutto italiane quando il porto di Genova e di Napoli si riconvertono su questo business dell'emigrazione, io vi dico che sono cose che hanno dell'incredibile, per cui assistiamo veramente a situazioni da carne e da macello. Una di queste, vi leggo alcune, per esempio questa è una lettera di un emigrante di Treviso che scrive Non trovo parole adeguate per descriverle per l'intero lo sconvolgimento del piroscafo. I pianti, i rosari, le bestemmie di coloro che hanno intrapreso il viaggio involontariamente in tempo di burrasca. Le onde spaventose si innalzano verso il cielo e poi formano valli profonde. Il vapore è combattuto da poppa a prua e battuto sui fianchi. Non le descriverò gli spasmi, i vomiti e le contorsioni dei poveri passeggeri non ha suoi fatti a così tale complimenti. Tralascio dirle dei casi di morte che in media ne muoiono 5 o 6% e, pregando il Supremo Iddio, che non si sviluppino malattie contagiose che allora non si può dire come andrà. Un articolo della Tribuna di Roma del 1891. Una donna mentre la nave naufragava veniva afferrata da un ufficiale inglese che si slanciò per salvarla. Essa si svincolò ricordandosi del suo bambino rimasto sulla nave. Quando tornò con essa il canotto inglese il canotto inglese non poté più avvicinarsi e la madre e il figlio affondarono. La tempesta era così violenta che i corpi si sfracellarono contro gli scogli. questo del 19 marzo lo stesso naufragio perché stiamo parlando del naufragio dell'utopia che era un piroscafo che appunto portava gli emigranti. Questo è il 19 marzo il 5 di aprile dello stesso anno un altro giornale l'Illustrazione Italiana sulla spiaggia dove per giorni e giorni il madre continuò a portare corpi attirava l'attenzione e la pietà il cadavere di una donna di media età che teneva al suo fianco un bambino di circa due anni con le braccia in posizione tale che si vedeva come ella lo avesse portato al collo in lotta contro l'inesorabile oceano. Quindi come vedete sono scene tremende abbiamo detto come ci sono delle responsabilità incredibili la spreciudicatezza di questi agenti di viaggio di queste compagnie ma anche molto la indifferenza e il silenzio delle istituzioni sì ci sono rapporti che raccomandano eccetera però non c'è un'azione decisa a stroncare questo fenomeno cioè a quantomeno mettere in sicurezza mettere in sicurezza queste queste imbarcazioni e rendere quindi il viaggio meno traumatico e meno pericoloso un esempio per tutti la tragedia del Sirio la storia del Sirio in cui perirono circa 500 emigranti italiani è una storia che per certi aspetti fa ricordare quella della costa Concordia una cosa tragica tragica perché ci sono proprio delle responsabilità oggettive il Sirio già carico di emigranti passa lo stretto di Cibilterra poi inspiegabilmente si accosta a uno scoglio perché si accosta a uno scoglio perché dicono le fonti non ufficiali ma ormai diffuse il capitano era d'accordo con della gente di lì per caricare dei clandestini e quindi che non comparivano da nessuna parte e quindi caricarli a bordo e portarli si accosta urta contro lo scoglio praticamente insomma 500 morti ebbene questa è già di per sé una tragedia ma quello che secondo me è ancora più tragico è il processo il capitano di questo Sirio ne esce indenne perché addirittura si inventa che le bussole non funzionavano in quanto siccome sullo scoglio c'erano dei materiali ferrosi per cui l'ago della bussola fu ragazzi schettino la storia della costa Concordia e ripeto il capitano della nave uscì indenne da questa vicenda in cui morirono 500 persone e poi vabbè si arriva nelle nuove patrie siccome appunto parlando con il vostro professore si parlava soprattutto della attraversata transoceanica si ipotizziamo che si arrivi a New York e quindi nasce tutta un'altra dinamica delle cose cioè essere ammessi all'interno della nuova nazione intanto a New York si era creato un filtro ora giustamente ho sentito che avevate già parlato dei problemi della legislazione dell'ammissione degli emigranti il famoso quota act eccetera per arrivare in America ma Ellis Island è il primo filtro come per l'America del Nord come New Orleans lo è per gli Stati Uniti del Sud e quindi c'è il problema di essere ammessi e anche lì avvengono cose incredibili se voi avete visto il film tipo Il Padrino vi rendete conto di come questa gente più delle volte ignorante della gente che non sapeva leggere e scrivere viene sottoposta a tutta una serie di prove intanto per l'ammissione perché se dovevano avere una certa quantità di denaro dovevano conoscere almeno qualche parola di inglese dovevano saper leggere e scrivere e dovevano essere in buone condizioni di salute quindi voi pensate l'ansia di non essere ammessi si era speso tutto quello che si aveva si era indebitata la famiglia per poter prendere i biglietti si arriva là e siamo c'è il rischio di non è un esame in cui si ripara fra sei mesi è un esame definitivo nella bolgia di Ellis Island eravamo una delle fra le tante famiglie sgomente che ogni nave in arriva a New York scaricava in un luogo tetro chiuso da sbarre di ferro Ellis Island era una bolgia spaventosa di uomini donne e bambini che si agitavano come un greggio senza pastore mi sentì gelare il cuore quella scena creò in me un senso di paura e di angoscia che doveva perseguitarmi per molto tempo fummo trattenuti per tre eterne giornate cosa succede? finalmente siamo arrivati nella nuova nazione e c'è il problema dell'inserimento è vero che grazie a Dio normalmente gli emigranti hanno una specie di canale preferenziale una specie di rete di rapporti quelli che normalmente viene definita la catena migratoria cioè chi è arrivato per primo chiama il cugino il fratello l'amico eccetera e quindi si innesta un meccanismo di solidarietà per cui molte volte al porto abbiamo un volto amico abbiamo una persona che conosciamo ma non sempre e quindi praticamente ci si sottopone poi a tutta una serie di meccanismi di ricatti e perché i porti pullano pullulano e ripeto basta vedere questi film abbiamo citato prima il padrino ma molti altri di personaggi ambivi che cercano di far leva sulla d'abbenaggine in certi casi di questi migranti inesperti e quindi propongono loro lavori opportunità alloggi temporanei in maniera tale situazioni di grande sfruttamento è chiaro che poi piano piano le cose proseguono e si crea appunto ognuno cerca e trova all'interno di queste società i propri spazi ma le discriminazioni sono fortissime io ho detto prima di come già le vignette illustravano sui giornali la differenza la malvagità la sporcizia veniamo paragonati alle peggio razze umane e in questa maniera diciamo si crea una grande separazione fra quella che è la società cosiddetta ospitante e quella che invece è quella nuova che è arrivata ecco perché si creano quelle che sono le famose Little Italy e quindi si creano dei quartieri dove si ripercorre all'interno si rivivono all'interno di queste realtà quelli che sono i riti le culture italiane ma anche il senso di solidarietà il senso di rapporti umani e compagnia bella quindi questo è il primo percorso che si 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 però non è sempre così e questo non è sempre così noi stiamo parlando dell'immigrazione fra l'Ottocento e diciamo fino alla prima guerra mondiale che poi il 1913 1914 corrisponde numericamente al picco diciamo numerico dell'immigrazione per poi calare con il fenomeno della prima guerra mondiale per poi come diceva giustamente prima il vostro preside limitarsi fortemente nel periodo del fascismo perché appunto questa necessità di una società rurale viene indirizzata verso le colonie o verso quelle aree bonificate mi viene in mente l'agropontino la sardegna eccetera dove dal veneto per esempio tantissimi dal veneto o dall'emilia dalla bassa emiliana partono per andare a stabilirsi in queste quindi sono migrazioni interne però diciamo anche in termini più recenti vi leggo una una lettera di una testimonianza di un minatore che andò in Belgio ma stiamo parlando del dopoguerra quando ho cercato di far tornare qui la famiglia i belgi non hanno voluto affittarmi una casa perché avevo i bambini e loro avevano paura che i bambini rompevano tutto ho trovato una casa di due camere una sopra e una sotto ma ci pioveva dentro e non c'era né lavandino né niente eppure dovevo essere contento perché avevo trovato una casa quando veniva un amico si doveva sedere sul letto perché non c'era posto e poi gli scarafaggi quando di notte accendevo la luce mamma mia che fuggi fuggi allora avevo due figli ma in tutto ne ho avuti quattro così ho deciso di riprendere i soldi che avevo mandato in Italia e di comprarmi una casa qua tutta in contanti sì i crediti c'erano ma io ho lavorato e ho risparmiato e questo introduce il tema di chi praticamente inizia un percorso positivo perché si è lavorato si è lavorato con grande impegno si è creato un minimo di gruzzolo si è mantenuto a casa in Italia la famiglia è avvenuto magari il ricongiungimento e non sempre è un fenomeno indolore perché noi abbiamo per esempio delle lettere strazianti di donne che magari con i figli tornano dall'Italia vengono richiamate mi viene in mente una dall'Argentina e questa donna che arriva con questi due figlioli al porto di Buenos Aires e trova un uomo che non è quello che lui immaginava perché è un uomo che aveva lasciato anni prima e quindi dice io trovo una persona diversa completamente strana e che per me ormai è diventato un'estranea io ho solo il sogno il ricordo di quest'uomo ma ormai per me diciamo la verità visto così non dice più nulla se non addirittura il caso di donne che sono costrette a convivere con la doppia famiglia perché nel frattempo l'uomo nella nuova nazione si è creata diremo un'altra famiglia e quindi con tutto quello che con tutto quello che questo ne consegue è chiaro quindi che a queste difficoltà di inserimento abbiamo detto che nascono poi anche situazioni positive si incomincia a avere i primi successi si fa di tutto perché questi successi emergano si fanno le foto e si mandano in patria si scrive più di frequente non diciamo soltanto per dire come state io sto bene come è andato raccolto quest'anno come sta la mucca eccetera ma si incomincia a mandare lettere che dimostrano diciamo in qualche maniera che la scommessa è stata vinta vi leggo questo straccio di questa lettera di un veneto dice qui siamo in argentina siamo in argentina nel 1889 un periodo in cui l'argentina ha un buon un buonissimo livello economico qui si mangia tutti i giorni carne di bue finissima ogni persona ne hanno un chilo da mangiare minestra riso paste come meglio si gusta e quanto se ne vuole per conto del vino ne teniamo in casa qualche buona damigiano di vino francese e champagne è una trascrizione di champagne che volete di meglio quindi si si cerca di far sapere a casa che siamo arrivati che abbiamo vinto la scommessa che c'è una una situazione favorevole per cui si ostenta in certi casi il proprio successo guardate che è tipico io ho tantissime lettere di gente che scrive alla sua mamma o al suo padre con la carta intestata della sua società che cosa vuol dire no? dice per esempio negozio di genere alimentari Mario Rossi Argentina sotto cara mamma ti scrivo perché non si usa un foglio di carta bianco è chiaro che si vuole far vedere a casa che siamo arrivati si mandano le foto e queste sono bellissime alcune in cui si vede queste persone con il cappello con il gilet con l'orologio ma molte volte c'è un inganno sapete che soprattutto nel Sud America c'erano degli studi fotografici che ti noleggiavano questa roba tu andavi a farti la foto per mandarla a casa andavi in questo studio fotografico e quindi te c'avevi una rastrelliera dove c'avevi i cappelli il bastone da passeggio l'orologio in cui magari c'era solo la catena non c'era l'orologio che stava nel taschino quindi te ti camuffavi in questa maniera ti facevano la foto e tu questa foto la mandavi a casa e chi riceveva questa foto diceva guarda questo che e questo era pericoloso perché invitava a demigrare e io ho una lettera terribile di uno che racconta di come spinto dalle lusinghe del fratello il quale diceva io sto a San Paolo in una bellissima strada tutta asfaltata insomma con le pietre con gli alberi in una bellissima casa eccetera punto e il fratello visto questa situazione dice che faccio vado là perché nella peggiore delle pozze si andrò a stare da questo mio fratello in questo posto eccetera arriva e trova in una situazione completamente diversa cioè questo stava in un turio sopra un bordello strada fangosa eccetera eccetera e questo che è appena arrivato tacchiappa il fratello per la giacca lo sbatte in un muro e gli dice ma sei pazzo mi hai rovinato io ho investito tutto in questo viaggio pensavo di venire qua e di trovare una situazione che avrebbe potuto aiutarmi e risolvere anche i miei problemi ora che cosa facciamo te non hai neanche soldi per campare te stessa la risposta fu cosa avrei dovuto dire a nostra madre però in genere si tende di mandare all'estero l'idea dei propri successi e questo addirittura in certi casi vi cito questo perché questo non manda la foto di sé manda la foto della macchina che ha comprato e dice siamo nel 1960 da Niagara Falls New York questa station wagon sono otto giorni che ho ricevuto dalla fabbrica e se l'avessimo a Firenze si potrebbe andare a Barga il paese da dove viene in provincia di Lucca in un'ora e mezzo con dieci passeggeri saluti urbano cioè per dire non si manda la foto della figlia o delle cose si manda la foto della macchina quindi voglio a questo punto c'è una domanda da farsi molti si parla di numeri impressionanti dell'emigrazione italiana si parla gli storici sono incerti dai 26 ai 29 milioni di partenti sappiamo che diciamo oltre un terzo sono diventati stanziali agli altri sono ritornati è importante sottolineare come il rapporto fra l'Italia e gli emigranti all'estero è stato un rapporto da un punto di vista economico fondamentale nel 1913 noi ora parliamo di PIL di disavanzo eccetera eccetera di spread compagnia bella ecco nel 1913 la bilancia dei pagamenti italiana era pari era perfetto il bilancio era perfetto ma non certo per l'economia italiana perché c'erano le rimesse degli emigranti quindi possiamo dire che l'economia dell'Italia è stata almeno per i primi decenni fino al fascismo sostenuta in maniera determinante dalle rimesse degli emigranti non solo l'immagine italiana nel mondo è cambiata perché è cambiata anche il livello di conoscenza e in questo senso è importante ricordare come la conoscenza come dicevamo prima fra le varie realtà è un elemento di arricchimento di comprensione e di interpretazione di questo fenomeno la sensibilità è diversa ripeto non siamo più brutti sporchi e cattivi ma siamo diventati un elemento importante ma non solo per la Ferrari o per la moda o per il cibo perché la conoscenza fa sì che cambiano molti atteggiamenti un esempio banalissimo nel mondo anglosassone ma anche nel mondo in Australia eccetera per esempio pasteggiare con una bottiglia di vino era considerato fino agli anni 50-60 di essere degli ubriaconi salvo poi loro prendessero delle sorone sbronze con il whisky perché? perché si passeggiava a tè ora avere una bottiglia di chianti sul tavolo è segno di grande raffinatezza e quindi voglio dire che cosa vuol dire vuol dire che prima c'erano due culture che non si conoscevano e si volevano ignorare per cui per cui per cui praticamente il vino diventava lo stereotipo dell'ubriacone ora il vino è lo stereotipo dell'uomo di classe della raffinatezza per cui vedete appunto le cose cambiano gli atteggiamenti sono molto cambiati non si parla più di necessità di integrazione ma io visitando gente all'estero ma anche giovani per esempio io come ricordava il professore sono inizio il mio percorso come architetto ma io ho conosciuto degli architetti per esempio in Australia o in Canada che dicevano essere italiano come architetto è un titolo in più addirittura se poi sei toscano e poi se ti sei laureato a Firenze tutti pensano che tu sia Brunelleschi anche se sei un modestissimo professionista e quindi gli stereotipi come si vuol dire valgono da una parte ma poi valgono anche dall'altra quindi diciamo questo senso di memoria si sta rafforzando e questo senso di identità diventa sempre più forte perché vedete anche nel meccanismo identitario è complessa la vicenda cioè all'inizio quando si va all'estero tutti cercano di imboscarsi i nostri emigranti è tipico per esempio che il padre che lavora fuori eccetera impara un po' d'inglese e cerca di trasmetterlo al figlio perché sa che senza quegli elementi il figlio non si integrerà nella nuova società la madre invece che sta in casa è quella che conserva di più la tradizione sia da un punto di vista religioso perché è quello che fa dire le preghiere la sera al figliolo è quello che parla italiano perché magari più delle volte lei parla con i vicini che sono italiani come lei e non sa neanche l'inglese mantiene le abitudini gastronomiche eccetera quindi vedete come questo ruolo diciamo diventa particolare è chiaro che con il passare del tempo questi ricordi queste figure questi momenti si affievoliscono e quindi abbiamo una specie di commistione una specie di melting pot in cui appunto emergono per certi aspetti vengono meno quelli che sono i pregiudizi per cui ecco l'importanza della conoscenza vengono meno i pregiudizi e si tende a valorizzare quelli che sono gli aspetti migliori e non a caso abbiamo sindaci di New York da Giuliani all'ultimo governatori uomini dico l'America perché anche quello è uno stereotipo oppure cantanti attori italo-americani in cui ripeto essere italo trattino qualche cosa il famoso iPhone in inglese cioè il trattino quello nel mezzo quindi di italo-argentino italo-americano italo-brasiliano diventa un elemento di valorizzazione e di 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 importante il problema è quindi cercare di capire di cosa significa mantenere questa memoria storica e quindi questo senso identitario e valorizzarla al meglio in Italia come si diceva prima abbiamo scoperto l'emigrazione solo da poco abbiamo scoperto l'emigrazione o meglio pensavamo prima che l'emigrazione fosse soltanto lo zio d'America che lascia qualche migliaia di qualche milione di dollari a un ignaro parente italiano o il paperon dei paperoni in realtà appunto ci rendiamo conto di come i meccanismi sono stati diversi e quindi abbiamo voluto tacere su una pagina che veniva generalmente considerato una pagina triste e infamante della nostra memoria il vostro presidente prima ha ricordato quello che succedeva durante il fascismo cioè certamente il fascismo dà un grande impulso all'opera viene chiamato il genio degli italiani all'estero ci sono pubblicazioni in cui si dimostra quanto noi eravamo bravi durante il fascismo vengono fondate le famose case d'Italia cioè che sono delle specie di club che vengono costruite tra l'altro alcuni edifici bellissimi che vengono costruite nelle principali città di emigrazioni dove diventano tipo centro di affari centro culturali ma che servono non tanto sì servono come momento di ritrovo per le comunità italiane ma diventano la vetrina per esporre i successi e quanto è di bello della cultura e della civiltà italiana ma questo anche in epoca geolittiana cioè ci sono le grandi fine ottocento ci sono le grandi esposizioni in Brasile in Argentina eccetera proprio di prodotti italiani di aziende italiane eccetera una specie di diremo di expo antelitteram che serviva appunto però a parte questi episodi il resto la massa degli emigranti eccetera viene normalmente dimenticata e taciuta scopriamo l'emigrazione diciamo il senso e l'importanza dell'emigrazione tardi quando dopo il 71 appunto si inverte questo fenomeno fenomeno che come abbiamo detto occupa quasi insomma 28 milioni di italiani quindi un fatto storico di un'importanza incredibile che non può non essere studiato proprio per la sua per la sua rilevanza anche numerica pensate che noi siamo 60 milioni ora quindi pensate cosa significava abbiamo detto partire dalla Lombardia in 500 mila ma quanti erano i Lombardi del 1870 quindi si sta parlando di numero di percentuali che sono incredibili però tutto è stato taciuto perché era più comodo dimenticare ora è chiaro che il problema l'abbiamo vissuto alla rovescia cioè da paese di emigrazione siamo diventati paesi di immigrazione poi addirittura e questo è il discorso che accennavamo prima risiamo tornati paese di emigrazione un'emigrazione particolare ancora più drammatica perché alcuni dicono più facile perché chiaramente non c'è il viaggio di 40 giorni su un bastimento non c'è la necessità di scrivere una lettera che magari non si sa se arriva e se arriva dopo un mese perché c'è internet c'è Ryanair ci sono tutte quelle cose che ci rendono più vicini ma il distacco i problemi eccetera sono gli stessi e quindi capire i meccanismi originari che hanno dato a questo fenomeno e soprattutto valorizzare questo fenomeno non tanto come un'espressione di una sconfitta individuale ma come la vincita di una sfida individuale e a questo punto collettiva perché ripeto noi tendiamo a ricordare i paperon dei paperoni quelli che hanno avuto grande successo quelli che sono arrivati prima ma non dobbiamo dimenticare anche di coloro i quali hanno creato all'estero presupposti per una migliore vita propria dei propri figli che hanno trovato soddisfacimento a quelle aspettative che un'Italia con mille problemi con mille cose non ha saputo dargli e così è il discorso dei giovani che partono ora giovani laureati e non che decidono di intraprendere questa sfida non certo perché mossi non so dalla fame oppure senza altro dalla necessità ma molto anche da questa aspirazione a cercare all'estero spazi diversi e se noi li andiamo a intervistare abbiamo sentito molti di questi ragazzi la risposta è questa l'Italia non ci dà motivazione se noi abbiamo un progetto un'idea andiamo in una banca a chiedere dei soldi per realizzarlo ci sentiamo dire bene sì noi ti diamo 50 mila euro ma te cosa ci metti a garanzia ci metti una casa ma scusi se io avevo la garanzia cosa c'hai come conto in banca se avevo il conto in banca non venivo a lei a chiedere 50 mila euro allora niente ma mi guarda il progetto la convince il progetto sì il progetto è bello ma lei mi deve garantire cioè in America o nel mondo anglosassone in genere è il progetto che vince cioè io ti do i soldi se credo che quello che tu andrai a realizzare possa portare profitto a te e quindi indirettamente anche a me quindi il senso di frustrazione che noi troviamo nei nostri giovani è proprio dettato da questa da questa realtà il senso di un'Italia invecchiata un'Italia in cui normalmente dice sì è in Italia il figlio dell'ingegnere fa l'ingegnere il figlio del notaio fa il notaio se te non sei figlio di qualcuno o hai alle spalle qualche di un altro è finita e quindi ecco perché dico la storia dell'immigrazione è la storia che in qualche maniera ci può dare delle informazioni importanti ripeto non un'immigrazione stracciona ma di gente con la schiena dritta che guarda il mondo e lo guarda in un periodo in cui il mondo era veramente complicato molto più di ora per i motivi che abbiamo detto prima e per quello che significava affrontare questa sfida è trarre da questa esperienza degli elementi per capire noi il nostro futuro e per affrontare questa sfida di questo multiculturalismo che tutti i giorni siamo costretti a affrontare e che come abbiamo detto all'inizio come la pioggia non possiamo parare ma dobbiamo soltanto cercare di trovare e di creare un terreno in cui questa pioggia sia un elemento vivificante e non sia un elemento di tragedia di dissidi e quindi di incomprensioni l'ho fatta anche troppo lunga ma sono stato rigorosamente grazie io non so davvero quanto voi riusciate poi a sintetizzare di una comunicazione così ricca e anche articolata vi posso dire la mia impressione io sono una persona che sta studiando storia da un sacco di tempo perché là a me piace questa disciplina la mia impressione è quella che descrive Galileo Galilei vi inviterei a leggerlo in quella che è la favola dei suoni tratta da Assaggiatore ecco se qualcuno di voi l'ha letto è la stessa cosa sembra quasi che tu sappia tante cose su un argomento puoi vedere alla fine non ne conosci che una minima parte c'è sempre molto da imparare vi ringrazio che comprevate la mia stessa sensazione dico ancora due cose molto brevi poi lo so che dovete andare a casa perché le vostre mamme stanno in trepida attesa quindi poi vi lascio andare se voi guardate le pareti di quest'aula c'è una bellissima mostra fotografica che Biagioni ci ha dato l'opportunità di farvi vedere vi chiederei se è appena possibile qualche volta nei prossimi giorni di rinunciare all'intervallo non mangiate il panino non bevete venite qui nell'intervallo a osservare questa mostra che vedrete vi dirà tanto non sto scherzando se avete la possibilità di venire con i vostri insegnanti fatevi una rassegna delle immagini che ci sono in questa in questa aula e secondo me riempirete i vuoti ancora che il tema ha lasciato vi parlo poi di questi tre libri poi dico la allora il primo questo qui è un libro che ha il titolo li trovate in biblioteca perché il dottor Biagioni ce li lascia è un filo tra due mondi percorsi didattici sulla storia dell'emigrazione ci sono delle unità didattiche che sono molto interessanti sia per i temi sia per la struttura dell'unità didattica alcune sono proprio per la scuola superiore e possono essere secondo me quegli argomenti che hanno una dimensione trasversale per le discipline perché si può parlare di storia dell'arte di letteratura di lettere di canzoni di psicologia di antropologia e possono essere queste unità didattiche secondo me utili ai fini della conoscenza del fenomeno ma anche spendibili all'esame di stato il secondo libro questo qui è un altro libro molto bello è la traversata racconto e rappresentazione del viaggio di emigrazione oltro oceano storie memorie e voci che cosa ha di interessante e di originale che le fonti sono diverse sono fonti letterarie quindi testi letterari che hanno una dimensione una dignità letteraria e anche poi fonti invece che appartengono alla comunicazione ordinaria e quindi lettere note canzoni articoli e questi permettono di focalizzare il tema del viaggio di mettere a fuoco il tema del viaggio quindi la varietà di fonti che attengono ad un solo tema ad un tema dell'attraversata del viaggio il terzo il terzo libro è l'emigrazione tra arte e letteratura ed è una sorta di libro monografico sull'oceano di Edmondo De Amicis illustrato da Arnaldo Ferraguti quindi c'è l'illustrazione di questo testo famoso di De Amicis fatta attraverso la descrizione e fatta anche attraverso le immagini i vostri insegnanti e voi sapranno come meglio utilizzarli e intanto io vi ringrazio Allora se non ci sono delle domande per quanto riguarda da qui all'una per quanto riguarda per quanto riguarda ciò che è stato detto eventualmente allora vi auguro buon fine settimana e poi vi mandiamo anche le indicazioni esatte dei testi da poter sfruttare per approfondire anche in vista della vostra conoscenza dell'esame di Stato grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti Grazie. 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 Grazie.